Una coppia, marito e moglie, hanno prenotato le vacanze in montagna con i bambini un paio di settimane ma il giorno della partenza il marito va dalla moglie e gli fa amore guarda c'è un grosso problema, mi hanno chiamato ora dal lavoro e bisogna che io vada a lavorare in tutti i modi per quattro giorni c'è un cliente importante, ci devo andare per forza la moglie guarda il marito, ma dai, ma avevamo prenotato, ma i bambini ci tenevano dai amore facciamo così, sono quattro giorni dettavi con i bambini, io poi vi raggiungo e facciamo gli ultimi dieci giorni insieme sicché la moglie si avvia, al quarto giorno il marito chiama la moglie amore guarda ho avuto un grosso problema al lavoro e insomma sta cosa si protrae per altri tre giorni dai miei altri tre giorni arrivo, ma dai ma i bambini chiedono di te dai amore su facciamo l'ultima settimana insieme dai ti voglio bene, ti amo va bene dai amore ti aspetto perché passano altri tre giorni il marito arriva in montagna come vede la moglie ed è, ce l'ha subito ed è tutto un galluzzito, un barzottito amore amore ho voglia di fare l'amore, amore ho voglia di fare l'amore ma dai ci sono i bambini, ci sentano, ci vedano senti amore facciamo così, i bambini si lasciano al miniclub e noi ci si appartano da qualche parte si va in macchina come quando si era ragazzi, ti riordi questi chiappano, si appartano in un campo come arriva nel campo il marito si spoglia la moglie e inizia la tromba mentre lì che la tromba a un certo punto sente un urlo oh voi! si gira, vede un carabiniere mamma mia carabiniere io ora vi faccio la multa, vergognatevi a te usciani il luogo pubblico ma non lo so, ma vi sembra normale la vostra età guardi signor carabiniere, abbia pietà abbia pietà, è successo questo si doveva venire in vacanza e poi lavoro, e mi hanno bloccato e una settimana abbia pietà, abbia pietà non ne potevo più, anche lei no ma si metta nei miei panni mi farebbe lei senza una settimana carabiniere lo guarda e fa vabbè guardi per questa volta con lei chiudo un occhio ma quella troia che è la settima volta che la becco vi a lei la multa non gliela levo eh grazie 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 grazie